E' tutto pronto per il via dell'edizione 2017 della Fiera dei Morti in programma a Perugia dall'1 al 5 novembre con le tre location tradizionali Pian di Massiano, Piazza del Bacio e Centro Storico. L'inaugurazione alla presenza del sindaco Andrea Romizzi e dell'assessore al commercio, artigianato e mobilità Cristiana Casaioli si svolgerà mercoledì 1 novembre in tre momenti, alle 10 in Piazzale Umbregez, a Pian di Massiano, alle 11 in Piazza del Bacio, alle 12 in Centro Storico. A presentare l'edizione questa mattina nel corso di una conferenza che si è tenuta nella Sala Rossa di Palazzo dei Priori è stato l'assessore Cristiana Casaioli. La Fiera dei Morti si rinnova perché abbiamo da un lato la tradizione, la nostra tradizionale Fiera dei Morti, dall'altro le novità con la creazione di nuovi eventi per renderla sempre più qualitativa. Forse voi sapete ma noi abbiamo approvato da poco le nuove linee guida sul commercio, sul mostremercato in cui chiediamo agli organizzatori di fare un salto in più a livello di qualità, soprattutto per quanto riguarda il Centro Storico e le aree di Pian di Massiano.